Parla con lei, dance, 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 stra-cult, ha affiancato anche Renzo Arpore indietro tutta Trenta e Lode, vediamo insieme di chi stiamo parlando. Io lavoro tutti i giorni. Guarda come sempre, abbiamo poco tempo, posso non c'è risultato? Assolutamente, si chiede, guarda. Tanti bravo, Tanti bravo, Tanti bravo, Tanti bravo, Tanti bravo. Andrea Deoku! Eccola! Sai come sei bella? Come stai? Eh, sono un po' emozionata. A me, a lui! Sono felicissima e sono tanto contenta perché questo premio mi mette addosso una responsabilità che avevo voglia di ricevere e lo ritiro con tanto orgoglio e tanto rispetto perché quello che ci vuole sto cercando di capire come non deludervi per questo dono che mi state facendo e soprattutto come riuscire a portare l'allegria, l'educazione e l'umiltà che Fabrizio portava sempre nei suoi programmi. Quindi grazie soltanto questa parola. E a consegnarti il noce d'oro per il miglior conduttore emergente dedicato a Fabrizio Frizzi per la veloce ascesa tra i grandi nomi della televisione italiana e proprio il direttore artistico Antonio Frascatore. Complimenti Andrea. Grazie, infinitamente grazie. Antonio, ci vediamo dopo.